Noi da 17 mesi stiamo parlando di macerie, noi abbiamo creato movimenti, carrioli, le macerie stanno ancora qui, non si sono mosse, il vice commissario che si chiama Cialente e il commissario Chiodi hanno stati delegati a queste cose e non l'hanno risolto, adesso io sono d'accordo, ma sono contro i commissari, non contro Cicchetti come persona, se andiamo alla regione io verrò con un cartello dove dirò Cialente è un parabutto, sapete perché? Perché sono 17 mesi che non fa nulla per questa città e vi dico un'altra cosa, che i soldi ci sono perché da 17 mesi la cassa deposito e presti ha 2 miliardi alle banche, invece il sindaco ha detto convogliamo i finanziamenti sullo finanziamento diretto, sapete che significa? Che i cittadini questo non lo sanno, questi 2 miliardi che sono delle banche possono essere spesi, ma lo sapete cosa ci dice la cassa deposito e prestiti? Ma se non li sapete spendi non ve li diamo più, primo, non è Bertolaso, informatevi, non vi fate prendere in giro perché qui ci sono le campagne elettorali in atto, allora io vengo alla regione e spero tutti quanti condire contro i commissari, contro i commissariamenti, poi quando si parla del centro storico se permettete la città non viene divisa da nessuno, i proprietari sono fatti promotori e partecipi e vi dico che ci sono 280 comparti, sono stati fatti da tutti, i cittadini si sono riconosciuti, si riuniscono, c'è un'associazione che comprende 1.800 cittadini proprietari del centro storico che si vedono puntualmente, hanno i loro rappresentanti e vanno a interloquire purtroppo con l'incapacità totale che abbiamo come amministrazione, il comune deve, e lo dice le ordinanze e mi dispiace che prima non so chi ha detto che se le legge tutte io me le leggo due volte per capire le mani, allora che succede? Dice che il comune deve fare i piani di ricostruzione, cioè non il comune, il sindaco, io perché non ce l'ho col sindaco, persona cialente che rispetto e devo dire come persona non è il mio nemico, è la figura che non ha, lui deve fare il sindaco dei cittadini e se ne deve andare come commissario, perché come commissario non fa nulla, perché lo fa come sindaco, allora che cosa facciamo? Siamo contro i commissari, dobbiamo essere contro tutti i commissari, non di parte, allora io propongo che alla regione si si vada contro i commissari, poi se ognuno dice che Salente è un delinquente, o si che ti fa altro, sono responsabilità personali. La regione contro tutti i commissari ha la proposta di...